Carnevale di Tempio Rimanete con me perché non solo vi verrà voglia di cantare e ballare Ma anche di venire a Tempio dall'8 al 13 febbraio Andiamo? Il Carnevale di Tempio è anche musica ma non è musica qualunque È musica creata ad hoc per il Carnevale di Tempio E diventa poi un successo, un successo tira l'altro E ormai da anni Giuseppe Anfossi firma le canzoni Successo del Carnevale di Tempio Come nascono le tue canzoni? Ma guarda questa è una cosa che mi sono chiesto anch'io tante volte E' così, è strano, nascono casualmente Nascono in macchina, nascono passeggiando, nascono a casa Nascono dappertutto Perché come diceva un amico Tempo addietro Non so, Enrico Riccardi Le note sono nell'aria Le devi saper prendere Come acchiappare le farfalle Così no? Vai in giro, trac Acchiappi le note E le metti insieme Cerchi di fare un qualcosa di carino Che sia piacevole, sia divertente, accattivante Adatto poi ai ritmi ovviamente del Carnevale Che sono sempre allegri La tua ormai è una premiata ditta Diciamolo Perché tu dei successi del Carnevale ne hai firmato tanti Da Melo in Carto, che è quello dell'anno scorso A quello di quest'anno Che è? Manco Mali Eh, Manco Mali Manco Mali che? Manco Mali, che carrasciali Manco Mali perché stavo cercando di seguire un filone Che riprendesse tutti quelli che sono i detti in gallurese tipici Che so La prima, come la pulvara Anda come la pulvara, ecco La seconda A Malagana Anche questo Poi è venuto Michalza Che può essere adattato a qualsiasi tipo di Momento Non mi ci valza Che so Lo sclero Boh Non so Michalza qualunque cosa E poi l'anno scorso glielo in Carto Questo un po' si stacca da questo filone Perché si rifà Ha una famosa frase di un personaggio tipico di Tempio Molto simpatico Che risponde al nome di Tonino Cossu Noto Carulina Purtroppo non c'è più Però diciamo Ci ha lasciato questa eredità di battute Di aneddoti molto molto carini Quest'anno sono tornato su quel filone Con Manco Mali Si dice sempre Eh Manco Mali Manco Mali Che carrasciali Manco Mali Bonimente non ci vali Manco Mali Carrasciali Tantuali Si non ci vali Cerco l'ogito in mezzo a tanti Bassone e figuranti Frigiole e musicanti Spero di incontrarti i vanamenti Tra tutta chi sta i enti Ti chiamo e non mi intendi Luci, soli, balle, tre cantanti Mi parane ad ananzi Si credi in impuntanti Passa a fare gli stritti Si comprendi Chi ti so cucicchendi Su niente disigenti La gente come reagisce alla canzone? Ma mi sembra che stia riscuotendo un certo gradimento Solo così per fare un raffronto Quando abbiamo pubblicato Come la pulvora Che a tutt'oggi ha 125 mila visualizzazioni Ma quattro anni Ricordo che fu pubblicata il 20 gennaio E raggiunse le 10 mila visualizzazioni La domenica di carnevale Che era circa il 10 febbraio Non è cosa del genere Allora amici ci troviamo qui a Tempio Proprio nel cuore pulsante di questa città E andiamo a conoscere artisti e protagonisti Di questo prossimo carnevale 2018 Andiamo a chiedere alla gente Che cosa è per loro il carnevale Venite con me e sentiamo i loro commenti Posso chiedervi buongiorno signora Posso chiederle che cosa rappresenta per lei Il carnevale di Tempio? Il carnevale Allora il carnevale di Tempio Per noi tempiesi Diciamo che è la cosa più bella in assoluto Oltre quello che vedete Veramente Perché sin da bambine Sin da bambine Ci inculcano questo carnevale Poi conosciamo tutte le canzoni tipiche Bellissimo Gli posso chiedere signora Che cosa rappresenta per lei il carnevale di Tempio? Che i miei ricordi I miei vecchi ricordi Ce le può raccontare uno se vuole? Andare da giordo Ballare Tornare la mattina presto A casa Tutto qua Ma lei lo vive sempre come allora? No 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 Una certa età adesso sto a casa Mi piace Comunque qualche volta sono venuta alla sfilata E ho sentito nuovamente La stessa emozione Che carrasciare che ci vediamo E ci intenziamo E ci intenziamo E intratemi con me Ma le conosciamo tutte Secondo lei chi saranno i personaggi presi di mila quest'anno? Non ne ho idea guardia ancora A chi vedrebbe il protagonista in questi carri? Secondo lei? Forse è Bellussoni Che è in voga adesso Allora buon carnevale Arrivederci grazie Mancumali Che carrasciali Mancumali Bonimenti e nocivali Mancumali Carrasciali Quest'anno abbiamo pubblicato Mancumali Il 20 Oggi è 26 Siamo quasi a 14.000 Wow Mi fa pensare che insomma Ci sia O c'è stato un tantam più O un'attesa maggiore rispetto alle prime Però diciamo che come diceva Nero Wolf Soddisfacente Ricordiamo anche qualche passaggio del passato Perché al Carnevale di Tempio c'è sempre stata una particolarità Quella delle canzoni Che poi nascevano a volte da grandi successi del passato E venivano in qualche maniera rielaborate Per diventare grandi successi nella sala da ballo durante la sei giorni Re di questa situazione era Peppino Mazzittoni Che è stato uno fra i cantanti del Carnevale di Tempio Più amati in assoluto nella storia del Carnevale tempiese Alcune sue canzoni sono ancora riprese durante la sei giorni Dai gruppi che si alternano sul palco all'interno delle sale da ballo Ma cosa è cambiato da allora? Ma ecco è cambiato Allora anche Peppino Ha iniziato quello che è stata la creazione La creatività Quello di fare proprio la canzone dal nulla Cioè il testo letterario Così come si dice E il componimento musicale Mentre prima ancora Ci si limitava solo a fare delle parodie E così iniziò Perché ricordo Anche se ero piccolino ovviamente Mi veniva da dire che non ero nato Ma vabbè non ci crede nessuno Anni 60 si ballava con canzoni Di qualsiasi di quegli anni Poi Walser, Tang e quant'altro Samba eccetera Al limite la famosa Marcia di Giorgio Poi un gruppo dell'epoca All'inizio degli anni 70 Si mi sento in testa di fare appunto Le prime parodie Mi vengono in mente Quelle di Arriba in Spagna Che poi era Diugnano, Giacattemube Eccetera eccetera O a direlo Sarragino Sarragino, Luca Arrasciale Luca Arrasciale E così sono andati avanti per un bel po' E anche Peppino le prime canzoni Che faceva le parodie Poi ha creato anche lui Delle canzoni Che ovviamente assieme Altri personaggi di Tempio Che si dedicavano alla musica Come Marcello Pesse per esempio Che è una persona molto schiva Molto riservata Che addirittura Non vuole nemmeno essere nominato Ma io lo nomino perché Merita Perché ha dato tanto anche lui A Cannevale di Tempio E quindi Franco Bisagno Antonello Iandolo Paolo Feno E tutta quella generazione di musicisti Che poi hanno ripreso assieme a Peppino Tutto il filone delle canzoni canascialesche Finché purtroppo Come succede nella vita C'è stato un ricambio E ha un po' Raccolto il testimone Del canzoniere Carnascialesco Domenico Dettori E Domenico Un po' E' stato così casuale Perché abbiamo iniziato A fare le parodie Di alcune canzoni di Arbore Con Natoppa Con Naturo di Capo E poi Ne sono venute delle altre Finché Ho detto Ma Vediamo un po' Proviamo a fare una canzone Proprio Inedita Ma Da nulla E' iniziato Come Torniamo All' Aborigine Come prima Da Comera Pulvara Fino a Mancumali Mancumali Che carrasciali Mancumali Boni mente Non ci vali Mancumali Carrasciali Tantuali Si non ci vali Insomma Il carnevale Va vissuto Anche in sala Non solo Durante le sfilate Per quanto Durante le sfilate La musica del carnevale Compresa Mancumali Sarà sicuramente Cantata E ballata Da migliaia E dico migliaia E ridico Migliaia Di persone Noi andiamo a ballare Ci ritroviamo più tardi Perché qui si suona Come succede Durante le sue giorni A fra poco Mincumali Pencumali Grazie a tutti.